Resto alquanto basito dall'emanazione di questo forte provvedimento che scaturisce da un quadro indiziario giudicato dal GIP grave. Commenta con queste parole il giorno dopo l'inchiesta che ha sospeso per un anno il primario di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Due Ruggi d'Aragona, Enrico Coscioni, il direttore generale Vincenzo D'Amato che ha affidato ad una nota il suo commento sull'inchiesta giudiziaria che ha affermato per un periodo inferiore ad un anno, siccome è avvenuto per Coscioni, nove mesi per Pirozzi e Toigo, sei mesi per Puca e Enrico, tutta l'equip che ha sbagliato, secondo il quadro accusatorio, l'operazione, dimenticando anche una garza nel torace del paziente Umberto Maddolo, 62 anni, sulla cui morte i familiari presentarono una denuncia. Mi auguro che i cinque sanitari indagati siano ascoltati al più presto e riescano a chiarire la loro posizione, fornendo ulteriori elementi utili alle indagini e che l'intera vicenda, al momento ancora in fase istruttoria, possa essere definita al più presto, ha aggiunto il manager del Ruggi di Salerno, Vincenzo D'Amato, al quale in passato, ovvero dal momento dell'apertura dell'indagine, più volte ma soprattutto da rappresentanti politici opposti al presidente della regione Campania De Luca, del quale Coscioni era consigliere con delega alla Sanità, erano arrivati inviti a fermare con provvedimenti interni il lavoro del primario, che è attualmente anche presidente dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. È altresì evidente che il dispositivo non può non ripercuotersi sulle attività di cardiochirurgia, per le quali il Ruggi è a tutt'oggi struttura di rilievo nazionale, alla quale gli assistiti provenienti non solo dall'ambito provinciale continuano a rivolgersi con fiducia. Ha inoltre aggiunto il direttore generale del Ruggi, rispondendo anche alle preoccupazioni di cittadini e pazienti sullo stop imposto dalla magistratura ben cinque medici della Torre Cardiologica, ai quali vanno ad aggiungersi una serie di altri camici bianchi che nei mesi scorsi hanno deciso di lasciare il reparto. Nel provvedimento di ieri va aggiunto che il GIP fa riferimento anche ad un altro procedimento giudiziario che vede imputato lo stesso coscione di un altro medico, anche per il caso della morte di una 17enne di Cava dei Tirreni, che morì a Ruggi dopo un intervento per insufficienza cardiocircolatoria.